Trionfo del centro-sinistra alle elezioni regionali in Campania. I risultati emersi dagli scrutini parlano chiaro. Il plebiscito per De Luca ha trainato anche liste candidati della sua coalizione. Mario Casillo, già capogruppo PD, si conferma la prima scelta degli elettori campani, dopo aver ottenuto complessivamente 41.990 voti. Altra riconferma assicurata fra le fila dei democratici è quella della consigliera uscente Loredana Raia, seconda dopo Casillo con ben 26.870 preferenze, di cui 3.834 espresse dai suoi concittadini nei seggi di Torre del Greco. Grazie a tale risultato, la Raia sarà l'unica fra i candidati torresi ad accedere al Consiglio regionale. Non sono tardati gli auguri del sindaco Palomba, che in un posto su Facebook ha scritto, un successo importante anche per la città, che ha una degna e stimata rappresentante in Regione Campania. Secondo candidato più votato ai concittadini è l'ex sindaco Valerio Ciavolino, che con 2.115 voti è l'unico esponente del centrodestra ad aver riscosso consensi nella città del Corallo. 1.744 preferenze da Torre, 5.740 in tutta la circoscrizione, per Clelia Gorga. 1.119 per il consigliere comunale Michele Langella, anche per lui un risultato raddoppiato, considerando i voti di tutta la circoscrizione. Segue poi l'ex assessore dell'Aggiunta Palomba, Monica Ascione, figlia del capo di gabinetto Alfonso Ascione, con 1.013 preferenze. Buono il risultato di Pina di Donna, che con la nonnatalista Per ha raccolto 625 voti. Marco Man e Clementina Sasso, dopo il passaggio a potere al popolo in sostegno del candidato presidente Granato, hanno ottenuto rispettivamente 264 e 333 voti torresi. Seguono poi il giovane Salvatore Altiero, 213 voti con la lista terra, l'avvocato Salvatore Piro per il partito repubblicano italiano, 177, candida Mennella con centro democratico, 148 e infine la professoressa Giovanna Romano, insieme a democratici progressisti con 74 preferenze.